Per una comunità, per un territorio? Sicuramente, visto l'emergenza noi ci siamo resi disponibili a sostenere la comunità in questa emergenza ma come poi tutta la comunità ha partecipato a risolvere questo problema che è un problema che è sentito da tutti perché quando si parla di bambini e di scuola è evidente che tutti si danno da fare. Questa era la banca di Cavola, nata come la banca di Cavola è costruita con i sacrifici di questa comunità oggi è Emil Banca ma è sempre Cavola perché Emil Banca ha inglobato Cavola ma è sempre una banca di credito cooperativo e ha gli stessi principi di Cavola dell'ora e quindi era disponibile lo spazio e l'abbiamo messo in disposizione immediatamente. C'è anche questo passaggio simbolico molto bello, Cavola ha costruito questa banca e ora la banca restituisce il luogo. Io l'ho detto prima, alla fine le banche di credito cooperativo sono di proprietà delle comunità, noi non abbiamo né padroni né investitori, tutto quello che è banca di credito cooperativo è legato alla capacità delle comunità di far crescere le loro banche e quindi questo è patrimonio della comunità. Poi voi in questo periodo vedete che siete particolarmente attivi sul territorio, molto sensibili cioè si notano uno sforzo forte nel banca, io parlo per quanto riguarda Reggio vedo che è vero, ma anche Modena insomma quelle che dire io No, noi stiamo cercando di far capire che siamo diventati più grandi che essere grandi non vuol dire perdere il legame col territorio anzi, vuol dire rafforzarlo perché se sei grande e riesci a fare un'attività positiva, importante vuol dire avere più forza sul territorio, ma non perdere quel legame col territorio che è la nostra caratteristica. Cioè una banca di credito cooperativo che si stacca dal territorio non ha più senso di esistere, cioè noi siamo un tutt'uno col territorio. Stiamo lavorando veramente, ma non è solo un fatto di dire perché siamo arrivati, proprio perché è la nostra filosofia, cioè non è che siamo così e poi ci dimentichiamo, noi siamo così da sempre, da ormai 126 anni, 127 anni, che è la storia della nostra banca. Perfetto.